Il contrasto tra l'unione della salute e le spinte autonomiste dei sistemi sanitari locali sono solo in apparente contraddizione perché effettivamente riferiscono a due dimensioni completamente diverse. Il primo, quello europeo, ha a che fare chiaramente con le sfide trasfrontaliere di sistema. I secondi invece hanno a che fare con le prestazioni di salute ai singoli cittadini, ai singoli pazienti. Quindi una tematica di flessibilità sicuramente potrebbe diventare un elemento di grande valore. Sappiamo che la competenza sanitaria, proprio nei trattati fondativi dell'Unione Europea, è in capo alle nazioni. Quindi l'Unione Europea ha più una responsabilità di coordinamento, messa a sistema, supporto. Diventa una competenza concorrente in casi di emergenza sanitaria. E questo l'abbiamo visto chiaramente durante il Covid. Ora il Covid ci ha insegnato tantissimo perché da un punto di vista esperienziale ci ha fatto capire effettivamente che la grande capacità riattiva sia dell'Europa sia dei vari paesi. E ci ha fatto capire chiaramente che possiamo contare su sistemi sanitari eccellenti, in particolare come quello che abbiamo visto chiaramente messo a punto dalla nostra nazione. Ora abbiamo anche compreso quindi a livello europeo che bisogna lavorare moltissimo sulla prevenzione delle emergenze e quindi sullo studio delle malattie. Motivo per cui è stato istituito proprio uno spazio dei dati sanitari, che è uno spazio virtuale nel quale convergono tutti i flussi di informazione, tutti i flussi di dati dei cittadini europei e dei pazienti, che è molto interessante perché rappresenta chiaramente un utile strumento per poter fare ricerca. E per un'azienda come Insight che investe tantissimo in ricerca e che fa della ricerca, il suo asset fondamentale, non possiamo chi accogliere molto bene questa novità. D'altra parte i sistemi invece nazionali devono far fronte alla vicinanza dei pazienti. E per essere più vicini ai pazienti devono essere flessibili per definizione. Bene quando si tratta chiaramente di individuale, le direttrici principali, strategiche e le sfide di sistema alle quali siamo chiamati. In Italia abbiamo una popolazione che invecchia, siamo la seconda nazione più vecchia al mondo dopo il Giappone e quindi chiaramente il tema delle cronicità rappresenta sicuramente una priorità. Una priorità su cui andarsi a concentrare e dove poter anche disciplinare nuovi modi di fare le cose per essere più vicini ai pazienti. Ecco il vantaggio probabilmente delle autonomie differenziate potrebbe essere quello anche di collezionare delle best practice che poi possano essere in grado di essere spostate a livello nazionale.